Legalità sì, grazie, è il motto degli allunni dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Tre Castagni, che si sono ritrovati in piazza Marconi per dare vita ad una manifestazione alla quale sono intervenuti il sindaco Giovanni Barbagallo, il procuratore della Repubblica reggente Michelangelo Patanè, il procuratore generale della Repubblica di Catania, Salvatore Scalia, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aciriale Marco Salomone e la dirigente scolastica Maria Catena Trovato. Si tratta di un'iniziativa che ha voluto parlare di legalità con i giovani, mettendo a disposizione anche una pianta di magnolia che la scuola e l'amministrazione comunale hanno voluto dedicare al giudice Giovanni Falcone. Il sindaco si è espresso così, compiacendosi di questa iniziativa, la legalità sia principalmente impegno per il bene comune, tutti gli amministratori pubblici devono infatti avere un supplemento di rigore e di intransigenza nelle scelte istituzionali e politiche.